Allora, credo mi sentiate tutti, se ci sono dei problemi mi potete scrivere in chat così vediamo di risolvere. Vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento dell'iniziativa Digital Together che a breve Riccardo vi spiegherà. Io sono Marcella, farò un po' la moderatrice di questo webinar, mi occupo di marketing all'interno del Mera Soft Gruppo Lynx. Oggi con me si saranno a presentare, vai per la slide successiva, Ale, Alessandro, che vi saluta. Ciao a tutti. Così facciamo anche un test audio e Riccardo che probabilmente conoscete già. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, do innanzitutto la parola a Riccardo per fare una breve overview e raccontarvi un po' sia di Xidia Labs ma soprattutto dell'iniziativa che stiamo portando avanti con una serie di attività tra cui appunto questi webinar. Grazie Marcella, grazie Alessandro. Provo a darvi una veloce introduzione del motivo per cui abbiamo iniziato questo ciclo di webinar. Anzitutto spero che tutti mi sentiate. Vorrei semplicemente raccontarvi un attimo il motivo che ci ha portato qui. Innanzitutto io all'interno del gruppo mi occupo di gestire quelle che sono le strategie di inserimento delle soluzioni che riteniamo interessanti all'interno del nostro offering e poi della strategia di portarle sul mercato. Quindi ho tutta una serie di relazioni con i nostri partner internazionali e con tutti quelli che sono le waves più interessanti che il mondo dell'informatica in questo periodo, ma tipicamente da quando faccio questo mestiere, offre. Questa serie di webinar, e questo è il terzo mi pare, Marce correggimi se sbaglio. Quarto. È il quarto, perfetto. Era stato disegnato, e lo ripeto tutte le volte ma giusto per darvi un senso di quello che stiamo facendo, era stato disegnato in tempi non sospetti perché pensiamo che il modo di lavorare che abbiamo tipicamente, tutti i giorni, possa in qualche modo venire migliorato o facilitato dall'utilizzo di alcune tecnologie. Poi è successo quello che è successo e quello che erano le nostre idee e sono diventate ancora più di attualità. Abbiamo iniziato questo ciclo di webinar parlando di sicurezza. Ci siamo spinti poi al tema della digital adoption e oggi parleremo appunto della gestione di una tool chain in modo orchestrato e sicuro. Perché avevamo scelto questi temi e perché pensiamo che oggi siano più importanti di ieri? Perché se la digital transformation aveva avuto un'accelerazione nel corso degli ultimi due o tre anni per cui tutta una serie di nuove tecnologie e approcci poteva diventare sempre più presente all'interno delle aziende, oggi col fatto che siamo costretti da fattori endogeni allo smart working e a stare chiusi in casa, tutto quello che è tecnologia digitale è diventata praticamente l'unico modo, l'unico mezzo che abbiamo per svolgere le nostre azioni, per fare qualsiasi tipo di attività, non si può più andare in banca, non si può più andare nelle filiali delle assicurazioni, non si può più andare a fare la spesa se non per i pubblici coraggiosi che hanno quello di far code in mani, quindi tutto avviene su canali digitali. Abbiamo avuto per esempio ultimamente l'esempio dell'Inps che ha esposto i nuovi portali che ovviamente non erano preparati a questo stress, ma se notate anche diversi internet banking non sono pronti a supportare tutta una serie di carichi, ma non è solo un tema di carico, è proprio un tema di come il nostro modo di lavorare è variato negli ultimi periodi e come l'asset digitale sia diventato l'unico asset fondamentale per portare avanti tutto quello che noi facciamo. Ecco perché secondo noi ci sono dei temi specifici che sono veramente molto importanti, uno se lavoro su delle piattaforme digitali vorrei quantomeno GDPR o non GDPR che fossero sicure, se uno mi espone un'interfaccia vorrei che su questa interfaccia ci fosse modo di essere guidato nell'utilizzo e questi erano i primi due capitoli. Quindi ora se io devo lavorare da casa, se il mio team è costretto a lavorare da casa perché questa è la realtà dei fatti e purtroppo le informazioni che ci arrivano sono che sì, si ripartirà, si aprirà moderatamente, ma che questa cosa permarrà un po' come status quo e inoltre una volta che abbiamo visto che lo smart working funziona, non c'è motivo per tornare indietro se non per casi eccezionali tipo per riunioni, meeting e quant'altro, allora io mi devo un attimo adeguare. Quindi abbiamo preparato, vi ripeto questa era stata fatta, l'abbiamo pensata a dicembre dell'anno scorso questi webinar, quindi non erano mirati a questo tema, ma gli aspetti verticali che volevano trattare ancora di più si sposano con questo periodo. Oggi nella fattispecie vogliamo dimostrarvi come se io ho portato tutto il mio team di sviluppo da una situazione di, diciamo, un completo insourcing o insurso e outsourcing ma con contatti continui, il fatto che ci siamo spostati in un modello puntuale atomico dove la distribuzione delle responsabilità e della catena di produzione diventa atomica ognuno a casa sua, seppur supportati in qualche modo, il fatto di gestire la mia operazione solo con strumenti di smart working e soluzioni di mail o simili non mi garantisce, non ci può garantire l'orchestrazione, la gestione di tutto il processo e la sua ottima, il suo ottimo sviluppo. Quindi quello che noi in questo webinar vogliamo proporre è dire ma se io in questo momento sto cambiando il mio approccio, il mio modo di lavorare, devo in qualche modo capire quali sono gli atti di miglioramento che devo mettere in pratica affinché tutto funzioni come funzionava prima, se non meglio, con il minimo sforzo e il massimo rendimento, tenendo presente che ognuno essendo sul suo laptop a casa sua collegato in VPN con i canali aziendali, non può trasmettere se non via mail, quindi tutto molto offline o tenendo aperti sistemi di comunicazione molto molto invasivi di chat e quant'altro, non può comunicare anche quelli che sono gli stati di avanzamento delle sue operatività, soprattutto cross team e cross team vuol dire anche cross responsibility. Quindi oggi nel webinar che adesso iniziamo e fra poco cederò la parola ad Alessandro che vi dirà esattamente quello che vogliamo in qualche modo di mettervi e che al di là del fatto che io sto continuando a lavorare, grazie a Dio, tutti stiamo continuando a fare quello che stiamo facendo soprattutto nel nostro settore, l'ottimo si potrebbe raggiungere andando a evitare tutti quelli che sono errori di comunicazione o mancanze di comunicazione andando semplicemente a mappare la catena di responsabilità ed Alessandro adesso vi spiegherà come, prevalentemente da un punto di vista pratico e poi su uno strumento che mi possa supportare in questo flusso. Qual è lo strumento che poi noi abbiamo scelto e con il quale stiamo portando avanti questa campagna perché ovviamente quando poi è partita tutto il disastro che ci sta un po' toccando tutti i nostri partner si sono resi disponibili a fare delle campagne per agevolare tutti coloro che in qualche modo sono stati toccati e quindi praticamente tutti i nostri clienti. Il tool si chiama Xiderab, è leader in contrastato del mercato dell'Aro e dell'Ara che vuol dire Application Release Orchestration e Application Release Automation ed è in grado di esporvi tutte quelle che sono le funzionalità e le dashboard tali per avere sotto controllo un processo molto molto complesso che come vi dicevo prima non solo è cross team ma è anche cross environment e cross tools. Adesso Alessandro vi spiegherà un attimo di che cosa stiamo parlando. Se non avete domande fin qui io cederei la parola ad Alessandro. Ciao a tutti, allora oggi parleremo della software Chain of Custody che può aiutare le nostre aziende a concentrarci in particolare sulle conformità e nel controllo del nostro software. Una volta che avremo chiara la definizione della software Chain of Custody andremo a vedere gli strati che la compongono e infine andremo a toccarlo e a fare una rapida overview del prodotto. Però ritorniamo indietro, andiamo a parlare della Chain of Custody. Per parlare della Chain of Custody prendiamo come esempio la produzione classica. Noi tutti oggi lo sappiamo, no? Quando andiamo al mercato prendiamo un prodotto ma dietro quel prodotto che cosa c'è? C'è tutta una catena di eventi. Abbiamo la produzione, il trasporto, il processo, la conservazione e infine ci siamo noi che raccogliamo tutto quello che ci serve. E questa catena ovviamente è composta da vari attori non è composta solo dal produttore come è giusto, come è chiaro che sia. Se vogliamo dare uno sguardo al nostro software e ottenere il medesimo risultato ci dobbiamo predisporre per avere questa infrastruttura. Come facciamo a tracciare ogni singolo passaggio? Perché dalla produzione si richiede l'implementazione di una nuova funzionalità? E come possiamo tracciare ogni singolo passaggio da uno stato all'altro? Soprattutto in questa fase di... difficile un po' per tutti, no? In questa fase di smart working Ora, per ottenere la software chain of custody dobbiamo avere un completo controllo del nostro prodotto e la introduciamo dividendola in tre livelli. Livello business, livello tecnico e livello di governance. Parliamo di quello che storicamente è successo fino ad oggi. Abbiamo visto che la maggior parte delle aziende di informatica si sono principalmente focalizzate su il reparto tecnico. principalmente utilizzando magari un carnet di prodotti a supporto della continuous delivery o continuous integration che oscilla tra i 15 e le 25 applicazioni. Quello che vediamo è che effettivamente abbiamo tralasciato sia la parte business che la parte di governance. Parliamo appunto della business chain of custody. Scusa Ale se ti interrompo. Certo. Allora, il tema fondamentale è che ovviamente a inizio anno tutti abbiamo in qualche modo identificato quali sono i target per l'anno quindi gli obiettivi che ci siamo dati per l'anno in corso quali sono le applicazioni che dobbiamo rivedere o migliorare eccetera eccetera e abbiamo anche identificato quali sono i macro ruoli. Tendenzialmente questi aspetti sono poi stati messi a matrice con temi di governance ma completamente scollegati spesso, spesso, non dico sempre ma spesso sono strettamente scollegati poi da quelli che sono gli strumenti tecnici con i quali noi poi andiamo a lavorare. Strumenti tecnici che sono da una parte i cloud di microservizi piuttosto che la server farm dall'altra tutta la parte di Jira, Ticketing, ServiceNow piuttosto che Git, Jenkins e via dicendo e quindi abbiamo da una parte molto scritto molto scritto, molto definito su strumenti di altissimo livello il vuoto in mezzo quasi sempre e poi tutta una serie, una pletora di strumentini che in qualche modo creano una catena più o meno delineata che mi fa evolvere il software e tutte quelle che sono le azioni per fare il software che sono le issue test, azioni di rilascio in una maniera abbastanza come posso dirvi disomogenea l'approccio che noi vorremmo consigliarvi è quello di dire iniziamo a partire dal prendere coscienza di quello che è stato fatto finora e quindi tutto ciò che in azienda è stato definito delineato e in qualche modo formalizzato all'interno o di strumenti Excel o Word o PowerPoint eccetera eccetera e traslarlo dall'altra parte soprattutto in questo momento ripeto di atomicità di quelle che sono le nostre azioni individuali a mapparlo su un layer che mi aiuti a dire ah caspita ci sono tutta una serie di informazioni a livello gerarchico organizzativo e di processo che devo rispettare perché come ha detto Alessandro prima ci sono tutta una serie di regolamentazioni di regulations che io devo seguire che sono le audit interne la governance che mi impone determinate cose regole che ci siamo dati noi come progetto ma anche altre regole esterne tipo nel bancario c'è la 263 che è una regolamentazione per cui io dovrei dovrei dare evidenza di quelle che sono le change che io porto in produzione andare a capire anche cosa ho toccato quando ho toccato chi l'ha toccato eccetera eccetera e perché l'ha toccato quindi questo mix di informazioni che sono gerarchiche procedurali e dall'altra parte di team e di progetto dovrebbero essere in qualche modo messe assieme per darmi evidenza effettivamente di quale situazione sto andando a monitorare o ad eseguire ecco perché Alessandro vi stava dicendo che ci sono diversi livelli c'è la parte di business che è quella ragazzi quest'anno dobbiamo rifare l'onbanking c'è quella di governance che dice sì ok rifacciamo l'onbanking ma secondo queste regole e poi ancora c'è la parte di pianificazione ed esecuzione che è quella che dice se dobbiamo fare questo in questi modi allora dobbiamo organizzarci più o meno in queste fasi e utilizzare più o meno questa tool chain che mi viene data a disposizione questo è un po' l'indicazione che vorremmo darvi scusa Alessandro sottointerrompo no no quello che dici tu Riccardo è assolutamente perfetto mi permetto solo di aggiungere una piccola cosina che ad esempio con i prodotti forniti da Xidia Lab per almeno per quanto riguarda ServiceNow o per quanto concerne Gira e Git piuttosto che dovrebbe esistere anche un connettore per i prodotti IBM e è possibile collegare tutte queste funzionalità che ad oggi nascono più che e muoiono nel loro piccolo ecosistema piccolo o grande ecosistema possono essere collegati con i prodotti Xidia Lab e quindi già si può iniziare a fare questo collegamento diciamo come dici tu prima di tutto è mettere su carta è scrivere prendere dimestichezza con questo modo questa metodologia di lavoro quindi definire gli obiettivi definire il processo definire quelli che sono gli input output chi sono gli attori tutto quello che hai detto tu vado avanti ora questo è quello che riguardava la business chain adesso andiamo a parlare della technology ora la catena tecnologica è stata davvero trasformata negli ultimi anni toccando temi come l'automazione l'efficienza velocità integrazione sicurezza sicuramente abbiamo avuto dei miglioramenti fenomenali per quanto riguarda la nostra custodia del software e ci ha permesso di fornire un codice più velocemente permettendo quindi all'azienda di costruire connessioni collegate meglio e in grado di utilizzare tutte le informazioni generate dalle dashboard per ottenere rapporti report migliore inoltre questa metodologia aiuta anche ovviamente a una collaborazione migliore di tutti quanti team ma la velocità l'automazione sono sufficienti cioè quello che mi sto chiedendo e che chiedo anche a voi ci siamo persi qualcosa per strada marci se dirmi se no infatti approfittavo di questo spazio per invitare tutti a intervenire se hanno delle risposte alle domande che tu ogni tanto poni e se hanno ovviamente dei commenti ai concetti che sono esposti quindi siete in mute solo per evitare i rumori di sottofondo però assolutamente vogliamo che il webinar sia interattivo ecco il più possibile in modo che ci sia uno scambio di informazioni ecco il tema che sta introducendo Alessandro in questo momento è il fatto che ovviamente tutti gli strumenti aziendali continuano a essere raggiungibili e sono grazie a Dio sono fruibili da tutti gli attori del nostro processo quello che abbiamo notato ultimamente è che tanti nostri clienti stanno facendo più difficoltà di prima perché anche prima c'era una specie di esigenza di avere una strezione di alto livello in grado di dare evidenza dello stato di avanzamento di tutta una serie di cose ma ancora più adesso che siamo in uno stato di lavoro remotizzato per cui quello che di fatto Alessandro voleva introdurre come tema era io ho tutta una serie di strumentini che si sono evoluti ormai uno standard de facto che tutti abbiamo un sistema di trouble ticketing tipo di issue tracking chiamiamolo come vogliamo di alto livello tipo un service now ne abbiamo uno di basso livello rivolto molto all'IT tipicamente noi vediamo molto spesso gira abbiamo costruito quasi tutti ho parte di noi una bella suite di continuous integration e delivery che più o meno viene utilizzata al pieno delle loro funzionalità quindi io riesco tramite il mio source control git tipicamente o subversion perché è più antico a buildare quelle che sono poi il mio artefact in casa e poi deployarlo sulle varie attività è molto più difficile soprattutto in questa fase dove siamo ripeto un po' sparpagliati a livello territoriale andare a identificare effettivamente per ogni release per ogni piano di progetto dove effettivamente io sono se non con uno sforzo tremendo chi deve fare le cose chi in qualche modo è in carico di dover muovere una release da uno stato all'altro o dove effettivamente si trovano le micro release all'interno di un train di sviluppo queste sono un po' le tematiche che in questo momento abbiamo notato sono di difficile monitoraggio di difficile controllo e anche di difficile istanziazione quindi il tema che un po' vi giro anche come domanda è ma dal punto di vista della toolchain come diceva Alessandro prima è così facile per voi calare quelle che sono le le grant come si può dire in Italia le le autorizzazioni ma non è giusto autorizzazione non mi viene il termine comunque le responsabilità oh volevo dire le responsabilità oggettive sulla microfunzione all'interno di una catena molto ampia quanto sentite anche da parte vostra questa come posso dire passività nei confronti di un controllo un po' più puntuale ho la possibilità di avere al mattino quando mi alzo mi metto alla scrivania l'evidenza completa di tutte le azioni trasversali trasversali vuol dire che arrivano eventualmente fino a operation o agli ambienti cloud e fino al mio outsourcer che in questo momento è seduto in cucina a sviluppare codice questa è un po' la visione che noi in questo momento pensiamo possa essere critica scusale niente no 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 ma hai anticipato hai spoilerato le cose che stavo per dire non c'è problema comunque allora io stavo ponendo un quesito no cioè tutta questa velocità che abbiamo introdotto grazie a tutti i vari strumenti di devops si è fatto perdere per strada qualcosa a mio parere sì nel senso che prima di tutto parliamo della tracciabilità scusate se oggi vi faccio tutte queste domande ma mi chiedo siamo veramente sicuri che il nostro artefatto il nostro software è stato associato a un id un ibuc spostato attraverso tutti i vari ambienti vi spiego meglio è rimasto immutato in tutti questi vari passaggi come facciamo a rendercene conto da casa senza dover chiamare riunioni con tutto con tutti i team per l'intera giornata come facciamo a fare questa cosa questo cioè per carità bellissimo il devops fantastico fa tutto da solo una metodologia bellissima però mi rendo conto che probabilmente anzi ne sono sicuro che in certe realtà per chi non è tecnico per chi vede queste cose dall'alto è difficile da tenere traccia andiamo avanti parliamo delle performance il software riesce a fare quello che dovrebbe riusciamo a determinare quando le performance si degraderanno altra cosa scalabilità siamo in grado di aumentare o decrementare le performance dei nostri sistemi aggiungendo rimuovendo risorse hardware questa poi è fondamentale come diceva Riccardo prima no raccontando proprio la situazione dell'Inps che hanno messo su un sistema che ovviamente non era ancora maturo infine argomento che Riccardo conosce benissimo nel suo Devers e COPS siamo in grado di proteggere i nostri dati da violazione di attacchi esterni sono tutte domande che ci siamo posti e che come dire disponiamo assolutamente assolutamente perché questo è il clou diciamo è un po' il centro del sì perché infatti adesso passo a parlare della governance perché la governance ci permette di tenere sotto controllo e applicare una serie di metodologie di lavoro che permettono la nostra azienda che produce software di fare dei controlli in un modo strutturato in un modo migliore immaginiamoci un questo un processo in un particolare momento noi abbiamo un nostro software che deve passare dall'ambiente di dev all'ambiente di test questo passaggio ovviamente non può essere fatto alla cieca in quanto dovranno essere eseguite delle azioni fatte da determinati attori che valuteranno dei rischi attraverso determinati controlli se ci pensate bene questo concetto che io ho appena espresso può essere applicato ovunque e quindi se ritorniamo ai discorsi che facevamo prima che è riguardante il discorso che sì bellissimo produrre software velocemente ma noi quello che serve oltre la velocità è mantenere alta la qualità ma soprattutto questa qualità deve essere fruibile deve essere ispezionabile sia da utenti tecnici e anche da utenti non tecnici inoltre ogni controllo attorazione deve essere verificabile in modo univoco nel senso ci deve essere la persona preposta e a fare una determinata azione con controlli decisi a monte quindi deve essere tutto quanto rigorosamente strutturato e standardizzato ecco scusate faccio faccio solo un esempio per cercare una collocazione anche pratica l'altro giorno c'è successo che un nostro cliente mentre parlavamo è stato distratto da un'urgenza e quindi è uscito dal Webex che stavamo facendo per un progetto simile a Xenvia Lab torna dopo mezz'ora e fa guardate scusate ma è successo che uno degli sviluppatori ha portato in preproduzione una funzionalità che praticamente ha rotto tutto prima di una sessione di collaudo non riusciamo a capire chi fosse stato come l'abbia fatto con che grant e quindi abbiamo passato mezz'ora a telefonarci l'un con l'altro per capire che avesse messo in produzione quell'oggetto perché ogni tanto si lavora anche in emergenza senza taggare senza tracciare perché funziona così quello che sarebbe stato l'ottimo sarebbe stato avere semplicemente un layer che coordina i vari tour di basso livello come ho detto prima i vari Jenkins e via dicendo dove questo sviluppatore a cui è associata una funzionalità quindi la segregazione sia dei ruoli che delle funzionalità avesse semplicemente cliccato un pulsante dopo Alessandro vi farà vedere un esempio pratico e questo oggetto si fosse mosso secondo delle regole che c'erano cioè probabilmente quella funzione poi non abbiamo indagato perché ci siamo concentrati su altro quella funzione faceva parte addirittura di un altro rilascio non era mirato a quel rilascio lì ma lo sviluppatore a volte in questo periodo di caos e di remotizzazione probabilmente neanche lo sapeva quindi quello che Alessandro sta cercando di sottolineare col termine di governo e tracciabilità sono queste proprio cose molto molto concrete che a volte mandano tutti nel panico ci fanno perdere esattamente lo stream che noi stavamo seguendo e praticamente creano del rumore di fondo incredibile quindi quello che diceva prima Alessandro la gestione della sicurezza è un tema lo possiamo gestire come no ma se non gestiamo deve esserci qualcuno responsabile di dire ragazzi io la sicurezza su quell'applicazione l'ho verificata potete andare avanti Alessandro diceva prima anche la parte di performance è un di cui c'è un performance da fare perfetto ci sarà qualcuno responsabile ok ma nel processo dove sta questo qualcuno non posso passare la giornata a scrivere mail a stare sulle chat web sui chat ops oppure in conference call perché qualcuno gli deve fare una performance cioè tutto in qualche modo soprattutto ora dovrebbe essere in qualche modo messo sotto una orchestrazione altrimenti si rischia di fare dei disastri in mani oppure di non fare niente e se le cose vanno bene molto spesso è perché ci stiamo mettendo un effort impressionante io continuo a parlare con persone che dicono guarda lavoro da casa quindi non ho più il tempo di trasferimento all'ufficio risparmio dall'ora alle due ore al giorno a seconda della distanza non faccio più tante pause caffè perché non ho più distrazioni al massimo vado di là e prendo il caffè con mia moglie lavoro più di prima perché perché ovviamente non abbiamo oggetti che ci supportano nel dire chi ha fatto A, B e C A, B e C l'ha fatto 1, 2, 3 punto e se io devo fare delle azioni le azioni ovviamente sono in qualche modo tracciate e mettere in pista un orchestratore tipo quello che stai dicendo è la cosa più facile del mondo perché va bene nel caso di Xiblia è molto più facile perché come diceva Alessandro prima è pieno di connector per cui tutto il vostro mondo è già completamente integrato ma i flussi lì ho già io i miei team di progetto ce l'ho già so già cosa deve fare devo semplicemente configurare quelli che sono gli utenti sullo strumento e dire l'utente può fare questo può fare da A a B da B a C lo fa quest'altro utente e così via ma la cosa importante è tracciare non tanto per andare a dire ma cosa stai facendo ma per agevolare il fatto che lo sviluppatore probabilmente quello sviluppatore che ha sbagliato se tutto fosse stato in qualche modo tracciato all'interno del processo non avrebbe mai potuto mettere in produzione una funzionalità che non era parte di quel rilascio probabilmente non testata o che non aveva fatto tutti i controlli eccetera eccetera poi poteva anche succedere ma fosse successo avrei saputo che era lo sviluppatore Alessandro che ha messo in produzione una cosa probabilmente corrotta ma lo vedevo dallo strumento tempo di divisione della cosa 20 secondi ci hanno perso 40 minuti è ben diversa più i tempi di rollback quindi è questo il assolutamente forte assolutamente e poi non ci dimentichiamo degli audit log facciamolo però caliamo il discorso degli audit log alla situazione di oggi proprio come dicevi tu no Rick cioè in questo momento critico a mio parere chiedere ai nostri sviluppatori di redare gli audit log mi sembra una cosa abbastanza inutile una perdita di tempo mi chiedo è possibile che non ci sia un sistema che ci permette di automatizzare quest'azione e permetta a me e non sono un tecnico di essere autonomo nella verifica cioè calzandolo appunto nell'esempio che facevi tu prima cioè se lo sviluppatore avesse fatto avesse rilasciato il codice poi venivano prodotti in maniera automatica gli audit log io avrei potuto avere e sapere tutto in anticipo senza chiamare nessuno vedere dove il prodotto si era incastrato qual era la feature qual era la funzionalità che mandava in errore il nostro sistema tutto come attraverso i miei Sibialab ora andiamo a vedere in la governance chain e i benefici che ti dà che ci dà questa metodologia in quanto gli sviluppatori non non devono più perdere tempo a produrre gli audit e possono concentrarsi maggiormente sul loro lavoro ma soprattutto secondo me questa cosa viene spesso sottovalutata gli secondari manager finalmente hanno la visibilità di tutto quanto il processo dall'inizio alla fine e non devono più chiedere o demandare ad altri per avere lo stato dell'arte cioè che è fondamentale oggigiorno come dicevi tu prima cioè non è assolutamente pensabile di mettere conference call e riunioni per tutto quanto il giorno per capire cosa sta succedendo come quando e perché no infine abbiamo i vari revisori di info security i quali finalmente ricevono i report che hanno bisogno che abbiamo detto prima che devono essere immutabili perché se possono essere modificati stiamo sbagliando qualche cosina e tutto questo noi lo vi proponiamo appunto il Excel release e che adesso vi facciamo una rapida overview un attimo un altro tema molto importante ovviamente è quella delle odise di chi parla adesso Alessandro ossia vabbè i log dai mettiamo elastic ci siamo tolti il problema abbiamo i log perfetto ma è tutto scollegato vuol dire che da una parte avete il famoso service now in mezzo ci avete la mail dall'altra parte lo strumento che vi permette di fare le conference call quotidiane sulla parte bassa della piramide abbiamo i vari tool di sviluppo che possono essere molteplici in più abbiamo i cloud abbiamo tutta una serie di strumenti che devono che in qualche modo devono colloquiare assieme ma sono strumenti verticali e in più e in più abbiamo tutta la parte di audit che in qualche modo io devo presentare a che punto è il mio progetto e no aspetta il mio progetto è ed evitare ad andare in giro per strumenti per mail telefonate video non si capisce più niente perché ovviamente poi l'emergenza fa sì che l'informazione tenda un attimo e tenda un attimo a perdere ovviamente io la disegno un po' brutta altrimenti lo sarevo qua sicuramente voi avrete già trovato qualche qualche artificio per far sì che tutto funzioni nella maniera migliore ma non è solo il task Alessandro sviluppami questa funzione la funzione deve essere poi associata a un deve essere associata a un artifact versione 1 2 3 che va composto con altri che dipendono da altri prodotti che poi deve essere deployati su un sistema che operation mi deve preparare questo è lo scenario e in più devo dare evidenza di quello che sta succedendo a basso livello sui vari strumenti Jenkins ha fatto il suo lavoro sì lo strumento per la gestione dell'artifact sta su sì cosa sta succedendo questo me lo dico mi diceva Alessandro io devo avere uno strumento unico una visione che mi permetta di avere non solo la parte di orchestrazione ma anche di report incentralizzato dicendo beh siamo qua qua ed è andato in produzione questo quando questo giorno qui chi l'ha fatto tutte queste persone punto tempo di navigare quattro quattro finestre questo devo avere quindi devo avere un qualcosa che mi permetta di dire dall'informazione che mi è arrivata dal mio piano annuale informazione che potrebbe essere rivisiamo questa queste funzionalità del non lo so del portale del di gestione delle polizze vita per non dire sempre un banking da questa funzione abbiamo dovuto modificare tutte queste linee di codice che sono contenute nel mio repository di codice aziendale e sono queste l'hanno fatto queste persone queste sono tutte le build che sono state create questi tutti i test che sono stati fatti non fatti queste tutte le issue su gira che sono state fissate queste tutte le release che abbiamo messo in produzione che dipendevano da un'altra applicazione che è stata messa in produzione con con le stessi criteri questo è quello che abbiamo in produzione l'overview è questa e io devo sapere in questo senso in momento soprattutto ora che ho tutti sparpagliati in giro per il mondo chi in qualche modo ha il compito di effettuare ogni singolo step ogni singolo passaggio perché altrimenti il rischio è di perderci adesso Alessandro vi fa vedere come si può ottenere brevemente non è una demo è semplicemente un overview se no ci annoiamo troppo no infatti prima di iniziare voglio solo fare un piccolissimo e brevissimo cappello introduttivo XL Release che cos'è? è un prodotto che prima di tutto deve essere messo al centro della nostra azienda è lui che comanda e che orchestra tutte le nostre attività definendo cosa deve essere fatto quando deve essere fatto dove come e chi quando noi facciamo il login mi auguro che tutti quanti stiate vedendo correttamente Marci tu me lo confermi? si 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 vedo la finestra di login ok nel momento in cui noi facciamo il login se vedete lui il prodotto il tool ci fa subito vedere il tab my task questo perché? perché adesso io ovviamente mi sono connesso come amministratore sono nel mio ambiente di test dove gioco faccio cose e però immaginiamoci un caso reale cioè se io ad esempio fossi stato un team della qualità avrei visto tutti i vari singoli task a me assegnati che poi dopo andremo a vedere che cosa si intende per task attività ovviamente se fossi stato un'altra persona con un altro ruolo ovviamente avrei avuto altre cose a mio carico quindi non ne cerco ritorniamo al concetto di governance che parlavamo prima della governance chain of custody cioè quindi avere un punto di accesso unico per tutti quanti quindi ribadisco nuovamente il concetto che è un tool che deve essere messo al centro che quindi va a collegare tutti i vari miei strumenti di cui mi sono come si dice che ho all'interno della mia azienda quindi appunto che ne so potrebbe essere un prodotto che fa il controllo della qualità un prodotto che compila software o che lo deploya un prodotto che oppure semplicemente devo chiamare una mail un meeting con determinate persone per fare per vedere quali sono le attività possono essere definite tante cose adesso le andremo a vedere non vi preoccupate comunque l'importante è questo è quello che io definisco la filosofia del tool nel senso tu quando entri sai subito cosa ha in carico perché lo vediamo perché è taggato con in progress e soprattutto cosa è pianificato semplice plan e direttamente tra le varie cose noi possiamo interagire direttamente da qui senza andare a vedere il resto immaginiamoci ok in questo caso c'è l'attività check mail io dico ah sì sì guarda non c'è problema faccio skip scrivo qualcosa e così via ora andiamo a vedere un pochino a proposito volete che ingrandisca un po' l'immagine la vedete tutti quanti bene non c'è problema eh vediamo magari forse lo ingrandisco lo vedete un pochettino meglio e grazie un po' meglio per quanto riguarda invece il cuore del prodotto il design noi prima abbiamo parlato tantissimo di standardizzazione dei processi di avere un qualcosa di strutturato bene questo è il punto forte del prodotto qui io vado a definire la release ma non dobbiamo intendere la release come un artefatto che viene che nasce in un ambiente e arriva fino in produzione bensì dobbiamo immaginarci che per XL release la release è un insieme di attività di azioni che devono essere svolte quindi se ritorniamo sulla nostra chain of custody quando noi prima in modo generico definivamo attori controlli azioni stati ecco tutto questo l'abbiamo tutto in un unico prodotto ovviamente c'è tutta la profilazione degli utenti gruppi quant'altro può essere collegato all'ed up ovviamente c'è tutta una serie di azioni però andiamo a vedere una release allora io vado nella mia sezione template e io qui posso definire un mio template e facciamolo assieme aggiungiamo un nuovo template gli diamo un nome e qui c'è quella cosa che vi dicevo prima cioè il discorso delle fasi e delle azioni adesso farò una rapida carrellata anche perché temo che già stia sforando con il tempo e qui io vado a definire al di là dei colori vabbè che sono cose che ci aiutano a livello visuale per capire meglio in che punto stiamo comunque noi definiamo una fase logica e aggiungiamo una serie di attività per esempio immaginiamoci una release che nasce in sviluppo e che arriva fino all'ambiente di test allora quindi io qui che cosa dovrò fare io qui prima di tutto devo fare una riunione devo fare un meeting dove vado a chiamare tutti i guari singoli attori per definire cosa mettere e cosa non mettere all'interno della release quindi ora andiamo a vedere quelle che sono le attività le attività ce ne sono alcune molto semplici da intuire e capire nel senso possiamo vabbè poi ci sono pure delle release tecniche ma quello che interessa a noi in questo caso specifico è la notifica quindi dico che primo step meeting di start up la tipologia una volta definita come vedete è semplicissima ho definito lo step e adesso lo vado a configurare quindi qui vado a mettere tutti tutte le varie singole persone quelle che devono essere messe in copia poi scusate ma metto la mail in cui vado a definire appunto di che cosa aperterà la riunione non solo posso anche tramite script interno andare magari a prendere tutte le iniziative che sono presenti su ServiceNow che sono previste per quel lasso temporale e assegnarlo magari posso dire guarda assegnalo a me perché sono io a dire quando partirà quando il tool deve mandare queste email poi una volta definito quel meeting di start up ok devo chiedere all'operation di preparare l'ambiente di test per ricevere la release quindi vediamo un po' cosa abbiamo ok evitiamo altri esempi perché non vanno ceno dalla regia che sono sto sforando benissimo non vuole tenerli per l'aperitivo ecco se per caso avessero già degli impegni no no certo ok come vedete allora noi abbiamo una serie di task già pronti i primi cinque sono quelli nativi gli altri invece sono tutti connettori verso altri prodotti facciamo un esempio che ne so lo so che adesso devo andare su gira e devo andare a creare una una issue lo so non ha senso però è per fare un esempio nel frattempo magari chiedere se ci sono delle delle domande se qualcuno vuole intervenire ecco giusto per non andare in realtà appunto la finestra sul tool era per dare anche un nesso logico tra quello di cui abbiamo parlato quindi ok parliamo di cena o cazzo di applichiamola al software ma vi diciamo proprio esattamente dove andare a inserire determinate informazioni per fare in modo oggi di ovviare anche a tutta una serie di riunioni fiume a cui eravamo abituati e che probabilmente non risolvevano neanche tutto e che oggi possiamo gestire invece in modo molto più efficace con degli strumenti che ci fa che sono proprio tangibili e che ci fanno come diceva prima Riccardo capire chi ha fatto cosa quando eccetera quindi il concetto era questo era giusto per dare ecco questo vi rubo solo gli ultimi due secondi se vi ricordate io prima ho messo skip sul come si chiama su un determinato evento come vedete qui in questo tab releases c'è l'elenco di tutte quante tutte quante le release che sono in corso d'opera quindi in design c'è il disegno qui invece sono tutte le release che sono partite tra le varie cose appunto vediamo che configura l'email completato check dell'email ho deciso di fare lo skip quindi c'è scritto chi l'ha fatto quando e perché poi adesso c'è l'altra fase che è setup user and security eccetera eccetera evitiamo di andare avanti poi quest'altra parte è veramente molto interessante mi dispiace di non poter andare troppo nel dettaglio ma qui ci sarebbe il collegamento con le delivery però qui si intende tutte le potremmo dire le iniziative e tutti i vari stati poi in questo in questa altra fase abbiamo tab scusate abbiamo la schedulazione quindi una volta io posso definire una release e dire che parte il giorno X e quindi avere una come si dice una visione dell'alto che può essere day by day settimana mensile possiamo scegliere si vabbè pure tutti quanti gli stati poi infine abbiamo un'ottima piattaforma di report e ovviamente adesso questa è tutta vuota e poi si vabbè ci sono altri settings ma evitiamo di andare oltre nel dettaglio se avete domande felicissimo di rispondere tutti timidi ok posso parlare io? Silvia benvenuta diciamo che mi interessa ma forse questo dei liberi per capire diciamo la intanto volevo dire che assolutamente è utile uno strumento che collega e orchestra a tutti altri strumenti di open source che sono i più usati mi sembra ormai i più ricercati dalle aziende e il dubbio è quanto è impegnativo e diciamo della maltenzione e la configurazione no? Poi quanto è snello o quante persone si devono lavorare cioè se è una persona o vabbè poi dipende dalle aziende chiaramente dalla quantità di attività mi interessava invece molto questa parte diciamo della verificare il delivery no? di tornare lì un altro fatto è stata rilasciata in un ambiente di test piuttosto che collaudo produzione e mi piaceva sinceramente vedere quella parte lì però ecco se non è disponibile un esempio è sicuramente la cosa più critica no? Io vedo lavorando in questo ambito di Apple DevOps veramente è difficile se non si utilizza uno strumento del genere capire e ricalire a che cosa sta in posizione o quale si fa e quale sono ricardo guarda secondo me visto che il tempo in questo periodo ma soprattutto in tutti i periodi ha una centralità abbastanza importante quello che posso proporti è dire se tu e qualcun altro del gruppo foste interessati a vedere una demo del prodotto sulla parte di gestione dei rilasci e anche su come potrebbe governare il deploy posso suggerirvi di scrivere a Marcella adesso o fra qualche istante e Marcella organizza un webinar dedicato proprio alla demo su questo perché hai centrato esattamente il punto cioè il tema fondamentale è che io ho tutta una serie di criticità a catena su tutta la tool chain fino in produzione ed è bello riuscire a gestirle in maniera strutturata e puntuale quindi se questo è il tuo interesse come può essere l'interesse di qualcun altro guardate mandate una mela a Marcella tanto in questo periodo stiamo organizzando due di una rotazione esatto possiamo dedicarvi una o un'oretta tutti quelli che vogliono si collegano facciamo domande vi rispondiamo proviamo a fare anche cose front scratch così all'improvvisata in modo tale da darvi un e più che altro se ci date anche degli spunti da cui partire quali sono le cose che vi stanno più a cuore lasciatemi dire o le cose più critiche per voi in questo momento andiamo a centrarle a metterle in demo perché ovvio che quando si fa vedere un tool così di questo tipo ecco o si parla di un aspetto in particolare oppure si rischia di essere dispersivi quindi questo era un po' sì infatti anche perché l'obiettivo di oggi era di dirvi guardate che noi abbiamo chiare quale possono essere le criticità che si stanno affrontando in questo momento e sappiamo che molto spesso pervadono l'azienda da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista di processi ma poi noi day by day dobbiamo produrre cose alla fine bisogna mettere in sviluppo applicazioni e devono funzionare quindi il nostro il nostro suggerimento su questo tema era quello guardate che basta poco ci sono già cose tipo Xibirab che fanno questo di mestiere integrano tutto non dovete sbattere la testa contro i muri per capire esattamente dove sono come dicevi tu giustamente le varie release cosa è stato rilasciato e quando e come quindi con un poco sforzo possiamo aiutarvi anche perché Xibirab in questo momento ci sta aiutando con una promozione che se poi volete possiamo discutere one to one per cortesia in contatto con Marcella così possiamo anche fare delle sessioni dedicate ma questa cosa potrebbe essere interessante perché in questo momento io ho questo problema possiamo fare una sessione dedicata e dire poneteci il problema proviamo a darvi una risposta con un esempio mirato e guarda in questo caso è più facile a farti che a dirti ok quindi sentiamoci se avete domande siamo 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 qua ecco ad ogni modo vi tra l'altro vi manderò su questo tema il white paper in italiano che abbiamo tradotto noi di Emerasoft nella mail di follow up e da quella mail potete poi scrivermi e chiedermi ecco eventuali temi che volete approfondire io ne approfitto per tutti ciao Riccardo grazie puoi saltare da una call all'altra in due secondi quindi è qualcosa positiva grazie a tutti per essere stati con noi vi raccomando se avete dubbi perplessità o domande non esitate a tanto siamo a casa ad aspettare Marcella così possiamo fare come dicevo se sono in dedicato vi rispondiamo o vi diamo feedback puntuali a presto grazie a tutti ciao Riccardo grazie ok va bene se non ci sono altre domande ecco questo era un po tutto quello che grossomodo volevamo raccontarvi e ci sentiamo prossimamente per approfondire gli aspetti che vorrete grazie a tutti grazie Silvia dell'intervento buona sera grazie grazie a tutti